Il comitato consultivo provinciale interno all'Inaella si è insediato l'estate ed oggi presenta la prima guida del mandato quadriniare. Le principali funzioni sono carattere consultivo su specifiche iniziative territoriali dell'ente e funzione propulsiva di indicazione di strategie da seguire in relazione ai bisogni del territorio in materia di seguente sicurezza e pensione.